Sciogliamo un po' le spalle e le braccia con la circonduzione indietro, un spino. e poi abbracciare la sfera, adesso al pezzo, adesso lavoriamo con un'ocente di go, immediato per sfumare, per riempire, riempire, a fare un'ocente atmosfera che si espande. Braccio morbido. Lavoriamo un po' anche. 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 Lavoriamo. 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 Lavoriamo un po' anche. Lavoriamo. Lavoriamo un po' anche.